Tu sei riuscito a guardare o sei riuscito a vedere il film Vinicio? Ho visto i primi 20 minuti e devo dire che è bellissimo, a parte le soluzioni di montaggio che avete trovato che rendono tutto molto appassionante, però insomma immagino la mole di lavoro dietro a quella roba lì. E perché lo sai una delle cose che mi ha colpito lavorando con questi ragazzi era il fatto che ogni tanto rimani spiazzato completamente e non sai veramente come andare avanti questa cosa e immagino in un percorso come quello fatto durante la lavorazione di questo lavoro. Sì, quello che è interessante è che loro sono sempre imprevedibili, cioè hanno un modo di pensare, hanno dei pensieri a cui noi neurotipici, come dice il dottor Keller, non abbiamo accesso. E quindi l'impressione continua che avevamo era una straordinaria stimoli continui, cioè sono persone particolarmente stimolanti, no? Che ti danno un mucchio di apertura proprio, no? Tu mi dicevi che nel film che hai fatto con questi ragazzi autistici avevate quotidianamente questo rapporto, no? Con i ragazzi e hai usato una parola, ah, queste persone fantastiche, no? Cioè, perché sono fantastici, cioè come... Parlando da attore, quello che mi ricollego a quello che stai dicendo tu, no? Il fatto che loro siano imprevedibili, ti costringono comunque a mantenere una reattività e un'apertura e un ascolto costante e ovviamente cercando di mantenere le briglie della scena, le briglie dei dialoghi e le briglie dei punti di fuoco delle scene, però poi quello che succedeva tra un punto e un altro era completamente nelle mani di quello che succedeva lì e devo dire che come attore è stata un'esperienza incredibile per questo motivo proprio, perché ti costringono ad avere un ascolto amplificato rispetto a quello che hai di solito lavorando con altri colleghi neurotipici. E poi dall'altra parte c'è il concetto della verità che mi ha colpito molto, cioè loro è come se non avesse... Mi sembra perlomeno quelli con cui ho lavorato io, non hanno filtri, non conoscono la menzogna, non so come dire, non conoscono le sovrastrutture di una comunicazione altra che non sia quella che esce. Esce, qualsiasi cosa succeda, non so come dire. E anche il fatto che, ecco, per esempio, quelli con cui ho lavorato io, mi ha colpito molto il fatto che loro non afferrano le frasi idiomatiche, Cioè, in bocca al lupo significa andare nella bocca del lupo, fine, non ha altri significati. E questa cosa mi ha fatto riflettere tanto proprio sul concetto di verità. Cioè, loro sono anche quello che dicono. Non c'è altro. Mentre noi, neurotipici, come dire, ci inventiamo dei giochi linguistici per dire altro rispetto a quello che le frasi, le parole effettivamente dicono. E questo concetto di verità è sicuramente da, come dire, da preservare, da conservare, perché non c'è menzogna, non ci sono sovrastrutture. E se i neurotipici, in qualche maniera, assumessero una minima parte di questo concetto, forse sarebbe meglio da qualche parte. Questa è una delle riflessioni che ho fatto, insomma, lavorando con loro. Ma guarda, il film, ad un certo punto c'è una scena, nel film c'è una scena in cui una delle operatrici, bravissima, parla con Michael, con uno dei ragazzi, e gli propone delle forme metaforiche, no? Come dire, la testa tra le nuvole. Cosa vuol dire? Ho i piedi infuocati. Allora Michael dice, mi fanno male i piedi. Ah, ecco, bravo, no? E poi gli dice, ho la testa tra le nuvole, e Michael risponde, non mi ricordo. Capisci qual è? È proprio questo che dici tu che è interessante, no? Cioè, loro imparano che cosa è la metafora, no? Che cosa c'è dietro? E questo credo che, quando tu mi dici il lavoro degli attori, da questo punto di vista, c'è tanto da imparare, no? Perché io vedo spesso con gli attori, lavoro spesso con giovani attori, ho diretto la scuola per attori del teatro stabile fino a giugno scorso, no? Quindi, anche quando fai un lavoro pedagogico con gli attori, spesso con i giovani attori, ovviamente, il lavoro più grosso è, se dici questa cosa, è questa. Non c'è niente dietro, non ci deve essere niente dietro, no? Non c'è qualche cos'altro. E invece siamo abituati a questo nella vita, no? No, noi diciamo una cosa per dirne un'altra, basta vedere adesso i tentativi di elezione del capo dello Stato, che dici non sai mai se dicono quello che stanno dicendo, anzi, siamo sicuri che non dicono mai quello che stanno dicendo, no? Perché dicono una cosa ma ne dicono altre. E invece hai ragione, è proprio una impressione di verità continua che hai lavorando con questi ragazzi, standoci. Mi viene in mente anche una scena che ho visto nel film, che quando salgono sul pullman per andare all'inizio proprio, no? C'è uno dei ragazzi che saluta, credo, suo padre o non so chi fosse. E Daniele, sì. Si commuove e poi si gira verso l'altro compagno che era seguito, dicendo lui, e gli dice, mi sono commosso. Certo. Cioè, questo riconoscersi le emozioni e non avere filtri nel mostrarle, mostrarle e anche dargli un nome. Cioè la necessità anche di riconoscere quello che sta succedendo in quell'istante e anche nominarlo. Questa è una chiarezza emotiva. Per gli attori, lo dico perché ci ho ripetuto tanto lavorandoci, chiaramente, no? Cioè è una precisione anche, che è semplicemente non avere filtri, non avere paura di quell'emozione, non avere il tipo di controllo sulle emozioni che abbiamo noi nella vita quotidiana, perché non si può esprimere, perché non ti devi fare vedere commosso o piuttosto che qualsiasi altra emozione. Ecco, questa assenza completa di filtri, anche rispetto a un'emotività che è trabordante, spesso e volentieri per loro, chiaramente. Beh, tu prima dicevi questa parola, cioè quando io sono con loro, e questa è una cosa che abbiamo vissuto sempre durante le riprese, durante gli allenamenti addirittura, sai che abbiamo fatto un sacco di allenamenti, no? Sì, sì. Prima di partire. E tu devi essere sempre presente. Devi essere sempre presente a te stesso e a loro, naturalmente, no? Perché ti richiedono una continua verità, come dicevi tu, no? E questo per gli attori è utilissimo, no? Cioè, che non abbiamo bisogno di dire, di tirare in ballo Peter Brook, no? No, 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 ma perché è semplicemente, come dire, hai la sensazione fisica, materiale, non solo psicologica, che devi essere veramente qui e ora, istante dopo istante, e che è sempre figlio di quelle, forse di quell'imprevedibilità lì, di cui parlavamo prima. Certo. Però questa cosa è... Beh, sai che il dottor Keller, ad un certo punto, nel film lo dice esplicitamente, noi abbiamo cercato di farglielo dire nel modo, non nel modo giusto, giusto vuol dire nel modo che interessava a noi, però non ci è voluto niente, perché lui di fatto, ad un certo punto, dice, sai, noi a questi ragazzi, di fatto, insegniamo a recitare, perché loro, ovviamente, non sarebbero disponibili a accettare le forme convenzionali della convivenza, no? E quindi, alla fine, questo crea disagio, no? Perché se non ti sai, se non sai che con una persona che incontri, devi prima salutarla, no? Prima di dirle altre cose, è un guaio, diventi una sociale, no? Diventi un bizzarro, no? E quindi dice, noi quello che facciamo è insegnargli a recitare, di fatto, che è un po' quello che io avevo notato, no? In tutto questo. Però dice, però poi bisogna lasciargli i loro momenti, le loro stereotipie, cioè i loro momenti, e quello che mi ha molto colpito poi lavorando al film è che le loro stereotipie sono dei pezzi, per esempio, sono dei pezzi straordinari di danza contemporanea. Cioè, io vorrei vedere, ad un certo punto c'è Jimmy che fa una delle sue stereotipie, cioè lui fa quello prima di andare a dormire la sera, no? Fa tutto un gioco con le braccia, eccetera. Beh, io ogni tanto vado a vedere dei danzatori, delle danzatrici, io vorrei vedere quella qualità lì di organicità fisica e psicofisica, no? Cioè, per cui è straordinaria l'attinenza proprio, no? Potremmo concludere che gli attori, bisogna che siamo un po' autistici tutti quanti. Guarda, un po' sì, però come lo sono loro, no? Perché ci sono altre forme di stereotipie, dei normodotati invece che sono, dei normo, eh, che sono devastanti, come sai, insomma. Mentre invece, lo sai anche un'altra cosa che mi aveva colpito? Era il ritmo. Parlando di questo aspetto, no? È incredibile quanto ognuno di loro poi abbia un ritmo, abbia una cadenza precisissima, sia nel modo di parlare, o nelle loro stereotipie, o in qualsiasi forma espressiva riescano a trovare una forma di comunicazione. E anche il discorso della reiterazione di quel ritmo è una cosa che mi ha sempre colpito e che è di una poesia devastante. Forse per quell'organicità, evidentemente, no? Perché vedi che è qualcosa che è assunto in un corpo, in un organismo, che è tutto in quel gesto, che è tutto in quella ripetizione lì. Penso che sarebbe molto utile fare un... non so in che modo, perché poi non sono bravo a... cioè non ho mai avuto abbastanza pelo sullo stomaco per approfondire discorsi di questo tipo con gli Asperger o con gli autistici, però per gli attori osservare quantomeno questo tipo di organicità e quel tipo di urgenza, che non è un'urgenza, come dire, psicologica, è proprio il corpo che lo richiede, è l'organismo, è proprio la natura di ogni singolo di quelle persone che richiede quell'espressività. e questo ragionando sull'urgenza di un gesto in scena, sull'urgenza dell'essere qui e ora e di reagire a un impulso qualsiasi per degli attori sarebbe fantastico se non è un tipo di lavoro di questo genere. Sì, noi poi tendiamo, abbiamo questa abitudine a dire noi neurotipici, loro, autistici, però hai visto bene che poi quello che stavi dicendo è importante perché veramente ognuno ha un suo carattere, ognuno ha un suo ritmo e mi piace molto questa sovrapposizione, cioè carattere-ritmo, nel senso che poi il ritmo è l'elemento fondamentale che guida la nostra vita, per cui è vero che ognuno ha un suo ritmo nel senso che ognuno ha proprio un proprio carattere molto diverso l'uno dell'altro e quindi infatti parliamo di spettro autistico, no? E dentro a quello spettro lì quello che dicevamo prima è che a ben guardare magari rifaricamente ci stiamo un po' tutti infatti mentre facevamo le prove i primi due o tre giorni di lettura della sceneggiatura insieme con le persone che si occupavano di questi ragazzi anche la riflessione che facevo è che cioè io ognuno di noi ha delle fissazioni, no? Cioè c'è chi deve mettere a posto i tappeti per terra che non li vede storti, li deve vedere dritti, le righe delle mattonelle piuttosto che ognuno ha un proprio rituale o qualsiasi cosa cioè quelli che che chiamiamo normodotati forse hanno semplicemente imparato prima ad essere ipocriti nella società non so come dire a a a confrontarsi a rispettare le regole civili ancora viene da ipocrates quindi hai ragione viene sì una capacità di starci dentro no? neurotipico significa in qualche modo una capacità maggiore di starci dentro di star dentro la situazione di capire quello che succede di adattarsi di adattabilità molto spesso questi ragazzi semplicemente non ce la fanno ad adattarsi cioè si adattano in altri modi cioè per cui hai però quello che anche un'altra cosa a cui pensavo spesso durante la lavorazione del film quindi sai che quando si fa il montaggio poi stai lì con loro proprio tempo un mucchio di tempo te li guardi ogni minima inflessione della bocca del sopracciglio per cui li conosci benissimo e pensavo e ti ci affezioni tantissimo e pensavo che 40 solo 40 50 anni fa chissà dove ce li saremmo trovati queste persone no? e le abbiamo viste tutte le immagini dei manicomi prima di di Basaglia prima della della legge che li ha aperti e cavolo in realtà queste persone sono una risorsa straordinaria sì cioè quando si dice diversamente abili beh cavolo ma è vero no? non è una roba che uno dice vabbè diciamo diversamente abili no? per non dire mattino e ma no cioè è che veramente sono in grado di fornirti letture anche visioni del mondo eccentriche e quindi stimolanti cioè quindi è di più no? è qualche cosa è qualche cosa di più ma poi penso che siano fondamentali sai cosa? perché sono dei portatori di grazia in qualche modo che è una qualità nella vita che è sempre più raro trovare per strada nella quotidianità questa strana poesia che portano questa 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 lievità nello sguardo questa dolcezza che portano dentro ogni loro espressione penso che sia da coltivare non so come dire penso che sia da far assaporare a tutti perché altrimenti si perde è difficile trovarla insomma e poi rispetto a quello che dicevi adesso io ho fatto un lavoro su 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 Dino Campana e ci ho riflettuto tanto proprio rispetto a questa cosa qua perché sai in quegli anni insomma fino ottocento inizio del secolo era cioè ti prendevano e ti portavano via non non e chissà che cosa succedeva in quei mani comi lo sanno solo Dio insomma ed è incredibile quanto invece nella scrittura di Dino Campana poi c'è un profluvio di colori immagini mondi delicatezza suavità poesia nella maniera più generica possibile e e anche a me veniva da fare questa riflessione qui cioè chissà quanta quanti ne abbiamo persi quanta poesia abbiamo perso negli anni in cui fino a quando qualcuno non ha deciso di occuparsi di di occuparsi e di occuparsi seriamente no io durante la lavorazione del film all'inizio c'erano alcuni ragazzi che non li vedevi no cioè che si notavano meno perché stavano un po' più sulle loro no cioè perché sono meno esuberanti eccetera quindi sai nel mucchio te ne pette li perdi no e poi invece sono diventati poi tra i protagonisti del film no c'è un Giuseppe che lui per esempio ha pochissime relazioni con chiunque no e però se ti metti ad osservarlo io poi alla fine è quello a cui mi sono affezionato di più no perché e tra l'altro lui ha dei tempi comici incredibili perché dice tre cose al giorno ma quando dice quelle tre cose fanno sempre ridere sono sempre divertenti ma consapevolmente ma con una qualità di consapevolezza che è propria degli attori cioè io faccio veramente questa cosa quindi non è che la faccio per finta non la faccio davvero ma lo so che la faccio e la faccio consapevolmente quindi sono d'accordo no cioè hai proprio una molteplicità di possibilità e hai ragione quanti quanti ce ne saremmo lasciati indietro quanta sofferenza no e notavo tra l'altro una cosa adesso che l'atteggiamento per esempio dei genitori dei familiari è tutto sommato stiamo parlando di 40 50 anni quindi non è che stiamo parlando di chissà sono poco e poco tempo in poco tempo è proprio cambiato il comportamento no nel senso che io avevo uno zio che molto un pro zio cioè un parente che molto probabilmente era autistico da come poi me lo l'avevo visto l'ho visto da bambino un paio di volte ma poi da come me l'hanno raccontato e lui stava naturalmente stava in manicomio e era era strano perché intorno a lui c'era una sorta di cordone sanitario che impediva di conoscerlo che impediva no di di sapere lui chi era ci si vergognava avevi il parente matto ti vergognavi del parente matto no ci sono macchia per la famiglia certo certo no fortunatamente io vedo l'atteggiamento di questi genitori che sono che sono straordinari che hanno ormai invece hanno proprio un atteggiamento di orgoglio nei confronti di questi ragazzi perché vivendoci ti rendi conto della ricchezza che ti portano e questo nel disastro generale che stiamo vivendo è una piccola consolazione insomma è una riflessione fondamentale questa che stai facendo perché sai che ho studiato tanto Anton Chekhov no e e e lui dice c'è molto più progresso nell'umanità nei treni che andranno più rapidi nelle rotaglie che verranno nella medicina che farà passi da gigante ma l'essere umano rimarrà sempre quello che era quello che è sempre stato insomma non cambierà mai non evolverà mai mentre invece questa riflessione che stai facendo tu è una scintilla meravigliosa perché è un'evoluzione straordinaria di apertura di 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 ma anche veramente di accettazione di qualcosa che comunque fa parte della natura e questa cosa non possiamo dimenticarsela perché molto spesso l'essere umano è talmente presuntuoso nel suo essere ego riferito che dice no questa cosa è fatta male non è giusta e quindi per tanti anni sono stati esclusi proprio dalla società civile dalla famiglia stessa che se ci pensiamo è una cosa perché questa è contro natura certo certo e invece adesso c'è un grande atteggiamento da parte soprattutto dei familiari di protezione no e questo questo è un'evoluzione questo qui è progressivo sono le persone che cambiano i loro comportamenti più profondi e questo è ma poi sai cosa penso che sia veramente importante questo tipo di lavoro come questo film che avete fatto che hai fatto perché non solo è una testimonianza e non solo è un modo di di portare visibilità e condivisione per le famiglie per i temi per tutto quello che ruota intorno a quel mondo però è anche un modo di far come dire di propagare questa scintilla di accettazione di cui stiamo parlando e lo dico perché con l'esperienza del film che ho fatto io quanto basta io non pensavo io sono stato veramente sorpreso dal successo di quel film ma successo che è stato non solo nei festival specializzati diciamo così ma è andato in giro per il mondo ha fatto festival negli Stati Uniti in Canada festival di cinema tradizionali diciamo ma perché la forse fa anche parte questo di questo percorso di accettazione e di dialogo ho capito quello che voglio dire ed è fondamentale che ci siano dei film documentari o di fiction di funzione che parlino di questi temi per proseguire questo cammino e poi è fondamentale penso veramente per tutte le famiglie di questi ragazzi che fanno comunque una fatica enorme spesso e volentieri da soli senza lo stato che li aiuti in qualche modo e questa cosa è un fatto fondamentale che bisogna dire anche attraverso questi lavori insomma anzi c'è un po' un momento di riflusso adesso perché la psichiatria tutto quello che riguarda i servizi psichiatrici si tende a tornare ad un concetto di custodia invece che di cura esatto cioè pre-basagliano e questo è pericolosissimo per cui anche noi voglio dire nella nostra pur non essendo medici o neurologi eccetera credo che abbiamo dei credo che abbiamo dei doveri e anche la possibilità di incidere proprio su quello che dicevamo sul cambio della percezione delle persone su questo e che i politici con chi ci amministra si dovrebbe fidare un po' di più di noi insomma della scintilla artistica che in qualche modo intravede delle coincidenze dei punti di connessione e cerca di trasformarli per parlare di altro attraverso quei temi insomma questo è un tema che tu conosci molto bene da anni insomma non te lo devo dire non provocarmi no 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 sull'argomento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti